Qualche giorno fa ero su Tinder e ho avuto un match con una ragazza russa che parla pure italiano. Ho iniziato a scrivere e ad un certo punto ha cominciato ad investire molto. Non ho cercato in modo intenzionale questa reazione, ma è successo. Quindi ho pensato di farci un video sopra per aiutare i seguaci di Play Lover a generare la stessa reazione in altre ragazze. Vediamo i punti fondamentali per innescare tutto ciò. Esordisci in modo originale. Oscar Wilde diceva non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Ed è tremendamente vero. Nel 2023 se vuoi far investire una ragazza devi partire assolutamente con il piede giusto. Guarda il suo profilo, controlla i dettagli della sua descrizione ed esordisci con una frase originale. Non mostrare subito interesse. Le donne a volte smettono di investire quando sanno di avere un uomo in pugno. Il fatto che ti dimostri immediatamente interessato sulla base del mero aspetto fisico fa sì che ti uniformi ad una nutrita cerchia di uomini che ha già fatto la stessa identica mossa in passato. Ergo diventi un po' come tutti gli altri e di conseguenza il suo investimento rimane piatto o poco più. Se invece vuoi andare in controtendenza devi imparare a controllarti e a non esporre immediatamente il tuo interesse nei suoi confronti. Questo fa sì che la ragazza voglia saperne di più su di te per capire se può effettivamente interessarti ed essere la tua prima scelta. Invertire i ruoli. Invertire i ruoli con una ragazza è fondamentale per scatenare attrazione. La maggior parte delle volte è sempre stata lei a decidere se un uomo andava bene o meno. Ecco tu devi sovvertire questa dinamica e farle capire che stavolta sarà lei ad essere valutata perché tu vai già bene così. Questo farà letteralmente schizzare alle stelle la curiosità di conoscerti.